La comunicazione e il posizionamento nei social network a giorni nostri non è importante ma fondamentale. Una considerazione che deve aver fatto anche il comune di Bassano che si è affidato a Quorum, agenzia specializzata, mettendo mano al portafoglio e cacciando 20.322 euro. La struttura comunale, scrive La Determina, sviluppa la propria comunicazione con canali diversi, sia di interesse generale che destinati a pubblici specifici. E si rende sempre più necessario aumentare lo sviluppo e coordinare tra loro gli strumenti di comunicazione social già in uso e quelli di futuro utilizzo da parte dell'amministrazione comunale. Tutto vero, ma con 20.000 euro viene da chiedersi quante ore di formazione potevano essere fatte agli organi di staff dell'amministrazione comunale, quante competenze potevano essere acquisite da chi, anche al termine dei cinque mesi della consulenza, rimarrà dentro al palazzo. Non mancano le considerazioni più strettamente politiche. L'agenzia Quorum propone un servizio di strategia di comunicazione che ha nel proprio portafoglio politici navigati come Alessandra Moretti, Deborah Serracchiani e il sindaco di Milano Beppe Sala. La scelta fatta dal comune, fino a che punto è stata tecnica e fino a che punto è stata invece politica.